In Germania la protesta non si limita più ai famosi cortei del lunedì dei cittadini tedeschi. A Francoforte di recente si è svolto un incontro tra imprenditori che si oppongono alla politica energetica e alla condotta relativa al conflitto in Ucraina da parte del governo e che con le loro imprese sono con le spalle al muro. La disperazione è grande e ora hanno deciso di unirsi e prendere provvedimenti sotto il motto di la Germania si solleva e fa sentire la sua voce. Wolfgang Koscianek, iniziatore del movimento, spiega che le imprese territorialmente già si sono unite e ora con questo incontro condividono e intrecciano rapporti anche con le altre reti al di fuori. A questo incontro partecipano circa 30 imprese che non sono lì presenti per se stesse, bensì come rappresentanti anche delle altre del loro territorio. Sparsi in tutta la Germania ci sono questi gruppi che raccolgono dai 20, 50 o anche più medio imprese. Ora questi gruppi avranno un'organizzazione e come dichiara fermamente Koscianek, faremo vedere al governo che non staremo fermi a guardare come questa politica di dilettanti stia mandando questo paese sull'orlo del baratro. Durante l'incontro i temi affrontati principalmente sono due, darsi una struttura e il finanziamento. Intendono aiutare e appoggiare la protesta della strada fatta dai semplici cittadini che spesso non hanno che le loro gambe per protestare, mentre loro in qualità di imprenditori possono esercitare pressione politica per far sollevare il paese. Ci sono già molte imprese che hanno lasciato il paese per andare a produrre altrove, si può agire così e questo paese sarebbe distrutto nel giro di un anno o si può restare, non scappare e sollevarsi. Un'iniziativa ad esempio che ora è stata realizzata è quella di aver potuto fare contratti direttamente con Gaspro. Al momento già oltre 7000 aziende partecipano a questa rete.